Cosa è la libertà? E' quando possiamo dirci veramente liberi. Questi sono Giorgio e Filippo. Per il mio talk ho pensato a loro, ho pensato a cosa amerei donargli affinché possano vivere una vita piena. Da qui la riflessione, amerei dare loro strumenti affinché possano essere liberi e sarei poi orgoglioso se li utilizzassero per liberare altri, come in un effetto domino. Da qui il freedom ship. Se la cercate non la trovate. È una parola a cui abbiamo pensato io e Bruno, mio socio, amico, mentore, coach. Il suffisso ship in inglese sta ad indicare anche l'abilità all'utilizzo. E quindi quando abbiamo pensato a freedom ship abbiamo pensato all'abilità nell'esercizio della libertà personale. Ecco, sarei davvero felice se i miei due nipotini potessero crescere e vivere da persone emozionalmente libere. Ecco, ora che abbiamo rotto un po' il ghiaccio però ho bisogno di togliermi un peso. Devo farvi una confessione. Sono ingegnere, ingegnere meccanico per la precisione. E voi direte bene, un ingegnere meccanico che ci viene a parlare di libertà. Sì, ho fatto ingegneria, devo ammettere che l'ho fatta il meglio possibile affinché fossi proprio sicuro che non fosse la mia strada e il più velocemente possibile per poterla così iniziare a cercare prima. E che non fosse la mia strada ve lo posso assicurare. Se mi date un'automobile farei davvero fatica a distinguere il bagagliaio dal vano motore. Dopo ingegneria, cercando di redimermi e probabilmente peggiorando anche un po' le cose, sono entrato in consulenza strategica e ancora il nesso con la libertà non è così scontato. Da lì, con il cervello probabilmente compromesso dalle due esperienze di studio prima e lavorativa, poi ho iniziato a muovere i primi passi verso quella che sì, sarebbe stata poi la mia strada allo studio, della massima prestazione. Strumenti, strategie e metodologie per ottenere il massimo risultato possibile nel mondo dello sport, del business, della vita in generale. Così ecco davanti a voi un ingegnere evoluto o involuto in un mental coach. Poi sono inugueribile ottimista e quindi scomodando Steve Jobs mi piace credere che la creatività nasce quando la duplice passione per il mondo umanistico e il mondo scientifico si coniugano in una forte personalità. Non so se posso dire di avere una forte personalità, ma intanto ho iniziato a metter via due ingredienti su tre, così da portarmi un pochino avanti. Manca però ancora un tassello. Cos'ha a che fare la libertà con il mio lavoro? Come vi dicevo, mi sono sempre occupato di performance, della massima prestazione. Solo negli ultimi anni però, scavando un pochino più a fondo, ho trovato un profondo nesso tra il mio lavoro e la libertà. Aiuto le persone a liberarsi dalle loro zavorre così che possano volare più in alto. C'è un detto nel mondo dell'alpinismo che amo e che dice piccolo zaino, grande alpinista. Ecco, la cosa che penso è che io aiuti le persone a svuotare lo zaino da ciò che non gli serve, così da alleggerirlo, da ciò che le rallenta, talvolta fino a fermarlo, così che possano tornare a scalare le vette dei loro sogni. Ok, quindi parleremo di libertà. A quale libertà direte voi? La libertà di intraprendere strade una volta sognate, ma troppo spaventose per essere talvolta anche solo pensate. La libertà di scegliere di poter dire di no senza sentirsi in difetto e di dire di sì senza voler generare a tutti i costi un effetto. La libertà di fare la cosa che sai essere giusta senza che qualcuno lo debba necessariamente sapere, ma solo per essere orgoglioso di te nel guardarti allo specchio tutte le sere. La libertà di guardare al passato senza sensi di colpo o vergogna, sapendo che per quanto la vita ti possa sfidare, rimarrai una persona che sogna. La libertà di guardare al futuro senza ansia e paura, ma con la gioia negli occhi di chi si prepara con cura. La libertà di rendersi vulnerabili, perché si è consapevoli che non siamo infallibili, ma è abbastanza da essere ok e va bene così, perché siamo in cammino felici di essere qui. La libertà di non dover attaccare per difendersi e di non doversi difendere a tutti i costi, perché la vita è una festa e non una guerra in cui combattere mostre. La libertà di scegliere chi essere domani, partendo da chi sei stato fino a oggi. Di disegnare il futuro avendo come maestro il passato, ma senza che questo condizioni il tuo stato. la libertà di inseguire obiettivi che puoi tranquillamente mancare, perché non sono lì a giudicare, ma solo a allenare. La libertà quindi di tornare a sognare e credere nella bellezza dei propri sogni e di vivere il sogno come una meta per cui il viaggio valga addirittura un'intera vita. Beh, se ho fatto bene il mio lavoro, adesso dovreste essere vogliosi di sapere ok, quindi come fare a liberarsi? Io dovrei sapere come fare. In realtà non so se esiste davvero una sola strada, una scorciatoia per arrivarci. Ho trovato un numero relativamente ristretto di persone apparentemente emozionalmente libere, arrivate lì per vie profondamente diverse gli uni dagli altri. E poi chissà se quella sarà davvero la loro ultima destinazione. Ho incontrato poi un numero poco più ampio di persone in cammino, desiderosi ovviamente di arrivare alla meta, ma già felici per aver intrapreso il viaggio. E poi ho conosciuto purtroppo un numero molto più ampio di persone che portano zavorre, che da troppo tempo li appesantiscono, ma che l'abitudine ormai è anestetizzato fino a farlo sembrare quasi normale. Ecco, a loro va il mio pensiero. Penso che la libertà sia un percorso, di cui la bellezza sia il viaggio prima ancora che la meta, e che rimanere in cammino forse sia davvero l'unica cosa che conta. E quindi, da viaggiatore per la libertà in cammino, ho piacere di condividere con voi cinque spunti per semplificare il viaggio, magari portandoli in palmo di mano. Il primo ha a che fare con la vittoria e la sconfitta, con l'imparare dal perdere. Da ragazzino giocavo a calcio, non un grande talento. Potrei dirvi che la mia carriera è stata stroncata da un legamento, ma in realtà ero semplicemente scarso. Però sono un tipo competitivo, ho sempre detestato perdere, quindi quando da piccolino accadeva non la prendevo benissimo. Allora arrivavano i grandi che mi dicevano «Pacci, se vuoi imparare a vincere, devi prima imparare a perdere». Mamma, questa roba mi dava nei matti, non riuscivo a capire. Poi da grandi ho capito il perché mi dava così tanto fastidio, era la preposizione semplice A che non andava bene. Imparare a fare qualcosa significa imparare a replicarla, e non ci trovo nulla di utile nell'imparare come fare a perdere. E imparare dal, che invece significa crescere grazie a… Ecco, quello mi piace molto di più. Imparare dal perdere significa crescere, imparare, evolversi, prepararsi alla prossima gara sapendo che se non sarà una vittoria sarà un'altra tappa di avvicinamento verso di essa. E poi alla fine in realtà non perdi mai fino a quando continui a giocare. abbiamo purtroppo paura dell'unica cosa di cui abbiamo realmente bisogno per arrivare ad essere liberi di avere successo, sbagliare. Il secondo spunto poi ha a che fare con allenatori e giornalisti. Lavoro nello sport ad alto livello da ormai una ventina d'anni, ho imparato che c'è una profonda differenza tra allenatori e giornalisti. Lavorano e vivono nello stesso ambito, guardano la stessa cosa, ma da due prospettive completamente diverse. Gli allenatori devono fare delle scelte, i giornalisti le giudicano, gli allenatori devono vincere i campionati, i giornalisti commentano le partite. Nello sport si dice che la vittoria non è importante, è l'unica cosa che conta, può essere. Dipende però dalla partita che stiamo giocando, la partita a cui penso si chiama vita. E credo che abbiamo l'obbligo di giocarla da Dio, non vincerla male. Puoi vincere una partita giocando male, non un intero campionato. essere liberi a che fare con come ti senti, con la persona che diventi, non tanto con il cosa possiedi, magari talvolta barattato per quello in cui credi. Se vuoi giocare abbastanza a lungo da arrivare a vincere, occorre imparare a stare bene per come ti sei preparato, per come ti sei allenato, prima ancora che per il risultato. Agisci per la persona che vuoi diventare, prima che per il successo che vuoi ottenere. Ecco, parla senza giudicare, ma soprattutto ascolta. Senza per questo sentirti giudicato, perché è vero, c'è modo e modo di dire le cose. C'è però anche modo e modo di ascoltare le cose. E nessuno, nemmeno te stesso, nessuno, ha il potere di ferirci se non gliene diamo il permesso. Il terzo spunto poi ha a che fare con le biografie. Amo le biografie. Ti tuffano nella vita delle persone, puoi vivere le loro storie. Quindi qualche mese fa, in pieno lockdown da Covid, un giornalista durante un'intervista mi fa una domanda che dice cosa possiamo fare durante questo difficile periodo che stiamo vivendo? Sapere che passerà e per quando sarà passato, scegliere la storia che vogliamo raccontare. Questa è stata la risposta che ho dato. Tra qualche anno, quando terrai i tuoi nipotini sulle ginocchia e ti chiederanno della tua vita, delle cose che hai fatto, qual è la storia che scegli oggi di raccontare domani? Perché è vero, le biografie si scrivono domani, ma si vivono oggi. Il quarto spunto poi ha a che fare con il chiedere. Qualche settimana fa, mentre stavo preparando il mio talk, mi arriva un messaggio da un'amica che dice Ciao Paci, come stai? Ti scrivo per dirti che hai un invito ufficiale a Pescara. Ti racconto, i miei figli, 8 e 10 anni, stanno organizzando il loro mercatino estivo in spiaggia per guadagnare soldini. Stanno facendo braccialetti a mano e quadri dipinti da loro. Scorso anno, ricavo in tre mesi, 55 euro in due. Quest'anno hanno alzato la qualità dei prodotti, trovato un oggetto da regalare post-acquisto per generare stupore, hanno organizzato meglio l'esposizione e studiato una sorta di campagna pubblicitaria, il tutto in piena autonomia. Detto ciò, dopo averli ripetutamente sentiti ragionare, chiusi in camera, sono venuti da me ed hanno esposto il loro progetto. Obiettivo, 300 euro in tutta l'estate. Lavorando di più è meglio e... Senti, senti... Mamma, secondo te, se invitiamo Pacci un weekend a Pescara e gli diamo i nostri primi 100 euro, secondo te gli bastano? Ci aggiungiamo anche vitto, alloggio e un quadro. Così viene a vendere con noi in spiaggia e ci insegna tutte le tecniche che conosce. Con Pacci, secondo noi, vendiamo tutti i braccialetti in un solo giorno. Ecco, farò di tutto per essere con loro quest'estate a Pescara. Loro, nel frattempo, di sicuro, saranno con noi dietro le quinte del nostro prossimo evento. Credo che se lo siano meritato, magari fino a qualche secondo fa, sarebbe stata anche una sorpresa carina. Ecco, chiedere, a volte svela porte che hanno serrature che si aprono solo con un po' di coraggio. Qual è stata l'ultima volta che hai chiesto, senza avere paura della risposta? E quali sono i tuoi 100 euro, il vittro, l'alloggio e il quadro che saresti disposto a dare in cambio? Chiedi come farebbe un bambino. Chiedi tutto ciò che vuoi e dai tutto ciò che puoi. E se poi mi dicono di no, significa semplicemente che devi imparare a chiedere meglio. Il quinto spunto ha poi a che fare con una parte importante della mia vita, a che fare con i camerieri. Ho iniziato a lavorare a 14 anni, come barista e come cameriere. Amo questi due lavori. Le ho portate avanti fino alla fine dell'università. Mi hanno insegnato tanto, tra le altre cose, che esiste una profonda differenza tra essere a disposizione ed essere al servizio. Ad essere a disposizione di tutti, ma al servizio di nessuno. Mi hanno insegnato che se lavori duro puoi crescere, puoi fare strada. Ho iniziato facendo caffè e cappuccini in un bar, poi addirittura sono diventato barista in discoteca e cameriere in pizzeria. 300 coperti ogni sera. Ricordo che volavo con le pizze in mano da un tavolo all'altro, cercando di servire il maggior numero di persone possibile nel più breve tempo possibile. Poi, passando dai grandi hotel, sono arrivato a lavorare a Portofino. Per me è un posto speciale. Avevamo pochi clienti da seguire, per un numero relativamente ristretto di ore durante la sera, ma dovevamo essere impeccabili. Lì, tra le altre cose, ho imparato davvero cosa fossero le mance. Penso che le mance siano uno dei modi che i clienti hanno per dirti grazie. Ho apprezzato davvero molto il lavoro che hai fatto questa sera per noi. Il cameriere è un lavoro che ti aiuta a conoscere e riconoscere le persone. Dopo un po', con i clienti abituali, impari molto velocemente quelli che sono più generosi e gentili e quelli un pochino più tirati. Naturalmente, se riesci, cerchi di servire bene tutti, ma se puoi dare un occhio di riguardo, a chi lo riservi? Ovviamente a quelli più gentili e generosi. Ecco, la stessa cosa vale per la vita. Se hai il piacere di cenare in un posto particolare, devi essere disposto a pagare il prezzo per stare lì. Probabilmente il conto sarà salato, ma l'atmosfera è magnifica, i piatti squisiti. E poi i tavoli. I tavoli sono molto meno affollati che in pizzeria. Le vette delle montagne della libertà sono sempre molto meno affollati delle pendici, perché nel mezzo c'è una salita ripida da scalare, a cui molto spesso non siamo stati allenati. Tutti ne vorrebbero vedere il panorama, ma in pochi sono disposti a fare la fatica che occorre per arrivare lì. E tra le altre è un'altra cosa. Così come i camerieri. Quando li tratti bene, sei gentile, lasci loro la mancia, dopo un po' ti riconoscono e ti trattano meglio, così fa la vita. Quando sei gentile con la vita, quando lasci la mancia alla vita, quando dai senza che ti venga chiesto nulla in cambio, quando doni senza aspettarti nulla, ecco, dopo un po' la vita ti riconosce come i camerieri e ti tratta meglio. Paga il prezzo per i tuoi sogni e lascia la mancia alla vita. Alla fine credo che ci sia bisogno di persone emozionalmente libere che ispirino altre ad esserlo. Credo che ci sia bisogno di leader, e più ancora che di leader, di inspirer. C'è bisogno sicuro di persone che guidino e c'è ancora più bisogno di persone che ispirino. Ecco cosa dovremmo fare con le persone che amiamo, con i nostri figli, con i nostri amici, con i nostri colleghi. Ispirare loro ad essere, fare diventare il meglio di sé, così che possano liberarsi da noi, liberare se stesse, liberare altri con il loro esempio. Penso che potremmo passare davvero da esempi di leadership, e già sarebbe favoloso, a esempi di freedom ship. Stiamo arrivando su Marte, stiamo capendo come fare a vivere su Marte, e ancora tanto possiamo fare per imparare a vivere meglio su questo nostro pianeta. Un po' di tempo fa sentii una domanda che mi rimbalzò in testa per un po', fino a che non trovai una risposta. La mia risposta. La domanda faceva, da cosa misuri il valore di una persona? Dal numero di persone a cui ha migliorato la vita? Questa è stata la mia risposta, come in un effetto domino. E così, come quando con Bruno, pensando a freedom ship, abbiamo pensato all'abilità, nell'esercizio della libertà personale, e penso anche che freedom ship possa essere un bell'augurio con cui salutarvi. L'augurio che vi faccio è che i vostri cuori si imbarchino su una nave chiamata vita, che poi i plani sulle ali della libertà. Grazie.